Benvenuti a Ship to Shore News. MSC rompe gli indugi con STX. Vago firma l'ordine congelato per un'altra fantasia in occasione della visita di Sarkozy. Due nuove maxi petroliere per zacchello ma è una conversione. L'armatore veneziano ha trasformato le due Suez Max in ordine a Hyundai in Very Large Crude Carrier da mettere poi sul mercato. Augustea mette gli occhi su Star Ball Carrier. La compagnia di Zagari prepara la scalata alla società quotata rimasta vittima dell'attuale momento di mercato. Ultima sfida al TDT. A un punto di svolta il tempestoso rapporto fra Comship e compagnia portuale livornese. Controordine Grimaldi resta dov'è. Con un fulmino provvedimento l'autorità portuale livornese evita l'ennesimo smacco a LTM. La ripresa dei traffici spariglia le Alliance. Finisce la joint venture tra Grand Alliance e New World Alliance che tornano a operare in proprio tra Far East e Nord Europa. Arcete sale sulla carrozza di Keck Transport. Il gruppo trentino entra nella società logistica tedesca con Sedia Singen. Vago affida nuovi incarichi. Nomine per Soprani Palomba e Gargiulo in MSC Crociere. SNCF alla guerra del diffuso. Il trazionista pubblico francese taglierà come Trenitalia il traffico a carro singolo per ridurre le perdite astronomiche e si difende dalle accuse dell'industria transalpina. Paolo Risso fa 13. Aperta una nuova filiale a Milazio è concluso un accordo per il rilancio delle crociere a Santa Margherita. L'agenzia marittima Cambiaso Risso ritorna al filone di attività dei servizi di carico regolari a fianco degli assi portanti del petrolifero e delle crociere. HB Shipping da record. I broker genovesi protagonisti di tre imbarchi project da primato. Nuova casa per gli ormeggiatori genovesi. Il gruppo del capoluogo Ligure inaugura la nuova sede e rinvigorisce il rapporto secolare con la città e gli altri operatori portuali. Online il nuovo speciale è dedicato allo Ship Finance. Cresce il ruolo delle banche italiane nell'industria navale ma rimane ancora molta strada da fare. Per ulteriori approfondimenti consultate la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it. Ship2Shore News usciamo dopo i quotidiani ma arriviamo prima sulla notizia. www.ship2shore.it. Ship2Shore News usciamo dopo i trolls di domo www.ship2shore.it. His best world lives is a momento della nostra rivista online al sito dei